Ciao ragazzi, qui da Lex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo episodio sull'espe di Crash Bandicoot in Sin Trilogy, siamo al Koala Kong, nuovo boss Quanto è figo l'ambientazione, ah, ok, calmi, calmi, oh Dio santo, come si batte questo ragazzo, non me lo ricordo mai nella vita Merda, cosa fa? Oh Gesù, boom, ah ok ho capito, ok, ci sono Oh, ah, no, bastardo schifoso, quanto è figo sto boss, ma sculetta, ma che cazzo fa? Dai, sono qui, ah, 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 ok Boom Ma non l'ho fatto niente, ma che bug, raga ma l'avevo colpito io eh E' che giusta sta cosa Oh, mi sa che non l'ho colpito, boh, non l'ho visto Ma che cazzo fai? Becille Tutti i muscoli niente cervello Oddio, Crash non è che sia tanto cervellone, però vabbè, sono stato Dai, son qui, son qui, son qui, son qui Ah Beccati questo Ti è piaciuto? Spero tanto di sì, perché era un bel regalo Ah, no Eh no eh, non va bene così Aiuto Ah Ah, sì Beccati, no No, 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 va bene così Non va bene così, non va bene così, non va bene così Merda Qua, sono qua, sono qua, guardami, guardami Guardami Sono qui No cazzo ragazzi Che palle No ragazzi non l'ho preso Ci sono i carrelli Bastardo Boom Preso Wow Wow Dai non ci credo Ok ragazzi sono Quasi alla fine mi manca un colpo Se riesco a darglielo Sì ce l'ho fatta Ti sta bene Oh non è morto? Grande crash Bellissimo ragazzi Ce l'ho fatta Trofeo colpisci il koala Colpisci con la k di koala Bellissimo Isole Wumpa ragazzi Si ritorna alle isole Wumpa 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 E ragazzi mi sa che adesso ci sarà la terza isola E ragazzi mi sa che adesso ci sarà la terza isola infatti Wow No con crash Ragazzi io qua Chiudo l'episodio Perché Cioè il prossimo Inseriremo la terza isola Ufficialmente Intanto ragazzi salvo Se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel pollicione in su Mi raccomando arriviamo a 10 like per il prossimo episodio E noi ci vediamo appunto al prossimo video Bella raga